Rinuncerò alla prescrizione. Voglio che un giudice riconosca la mia innocenza. Così Guido Bertolaso, ospite del programma Agora su R3 in diretta nazionale, ha annunciato la volontà di essere giudicato per il processo Grandi Rischi bis, in cui Bertolaso, in qualità di ex capo della protezione civile, deve rispondere di omicidio colposo plurimo in relazione alla convocazione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009. L'udienza del processo è slittata al prossimo 21 giugno, andando incontro a prescrizione certa del reato, che scatterà il 6 ottobre 2016. La scelta si è resa necessaria, secondo il giudice Grieco, titolare del procedimento, perché ci sono ben 800 processi affidati a lui in corso di svolgimento. All'annuncio del rinvio dell'udienza, in aula esplosa la rabbia dei parenti delle vittime del terremoto. «Questo processo è una farsa, siamo di fronte a un omicidio di Stato», ha detto ad altavoce in aula Vincenzo Vittorini, presidente dell'Associazione delle Vittime del Terremoto e consigliere comunale. «Questo processo non può essere considerato come tutti gli altri». Secondo Vittorini, la Procura ha fatto perdere tempo al processo con tre richieste di archiviazione. Guido Bertolaso ha affermato che rinuncerà alla prescrizione durante una trasmissione in cui era ospite per parlare della sua candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra. A incombere sulla candidatura di Guido Bertolaso ci sono due processi, uno per corruzione sugli appalti del G8 della Maddalena che è in corso di svolgimento e il triste processo dell'Aquila per omicidio colposo plurimo delle vittime del terremoto. Rispetto allo scorso anno c'è la positiva novità dell'inaugurazione del restaurato Palazzo di Giustizia in via 20 Settembre. Inizia così l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario del 2016 nella relazione del Presidente della Commissione Tributaria regionale dell'Abruzzo. A fronte di poche novità positive in materia di contenzioso tributario come la previsione della quasi obbligatorietà della condanna alle spese in caso di soccommenza, alla condanna per lite temeraria, all'esecutività della sentenza di primo grado anche nei confronti dell'amministrazione. Alle previsioni del giudizio di ottemperanza in forma monocratica sono invece andate deluse le ragionevoli aspettative di modifica dell'ordinamento anche per la mancata nuova denominazione dei tribunali e delle corti d'appello tributarie e per la mancata riforma dei criteri di determinazione dei compensi. Già l'anno scorso nella mia relazione ebbi a dire della positività della risposta della giustizia tributaria alle richieste dei cittadini. Quest'anno con soddisfazione posso dire che è confermato questo trend positivo. Mediamente il ricorso nei primi due gradi della provinciale e della regionale vengono definiti entro il termine massimo di tre anni. Termine che è sicuramente molto positivo anche confrontato con i termini delle altre autorità giudiziarie. L'Aquila in viaggio verso Sant'Arcangelo dove domani giocherà la prima partita di campionato dopo la riduzione della penalizzazione che ad inizio settimana ha tolto il rosso-blu dalla zona play-out grazie alla restituzione di sette punti. Ora per gli aquilani inizia una nuova stagione. Finalmente si potrà infatti scendere in campo con una visione definitiva della classifica e del cammino da percorrere da qui alla fine per accentrare la gognata salvezza. Non sarà facile contro una diretta concorrente il Sant'Arcangelo che si trova a sole due lunghezze di distanza dagli uomini di Perrone. Tra l'altro la sfida di domani sarà solo il primo degli scontri diretti in calendario che l'Aquila dovrà affrontare tutti lontani dal fattori. Vedi ad esempio Rimini e Luparoma. L'importante sarà innanzitutto non perdere. Sul fronte formazione l'interrogativo della vigilia è pesoli sì o pesoli no? Il centrale difensivo ex Pescara è alle prese con un problema muscolare al flessore e da inizio settimana è in cura Cesena. È tornato questa mattina in città per provare a forzare in campo ma se dovesse restare fuori dai giochi considerando anche l'indisponibilità per la squalifica di Giordano Maccarrone il candidato per una maglia da titolare è il giovane Luca Bruno prelevato a gennaio in prestito dal Crotone. Bruno andrebbe così a completare il trio difensivo con Cosentini e Piva. Per quanto riguarda il modulo anti Sant'Arcangelo si va verso la conferma del 3-4-3 ma a partita in corso è possibile il passaggio al 3-5-2 con un uomo in più a centrocampo da scegliere tra i giovani Bulevardi e De Francesco. In attacco sarà confermato il trio dei Sousa a Perna San Domenico anche a causa delle precarie condizioni fisiche di Tommaso Ceccarelli che in settimana si è allenato a fase alterne a causa di un virus intestinale.